Sono tiratissima come succede spessissimo quest'anno, siamo tutti molto vicini e sono abbastanza soddisfatto di partire in seconda fila, perché comunque quando parti fra i primi 5 ma anche 6 va bene per la gara, in più considerato che quelli lì davanti vanno forti tutti, quindi non è male. Potevo fare un po' meglio perché ho lasciato qualche decimino in giro, però non male, soprattutto molto meglio di ieri. Adesso bisognerà vedere in gara perché 30 giri saranno difficili per tutti con le gomme, bisognerà capire anche quale scelta fare perché ancora siamo molto indecisi, però abbiamo migliorato tanto rispetto a ieri. Abbiamo migliorato il bilanciamento della moto in termini di setup, quindi quello meglio e poi ieri abbiamo provato qualcosa per migliorare l'accelerazione ma non funzionava e siamo semplicemente tornati al nostro standard. Ecco, quindi quella è la nostra moto di quest'anno. Secondo me come al solito non ci sarà tanta differenza tra una scelta e l'altra, però siamo molto indecisi perché la gara è molto lunga e bisogna capire in realtà qual è la gomma che resiste di più. Ecco, perché 30 giri sempre a sinistra non è facile, quindi penso che sarà comunque importante come al solito.